Sono persi la migliaia che incontro e infatti c'è sicuramente la disponibilità di ragionare insieme, tra l'altro io l'avento formalare, la conosco perché l'ho utilizzata a volte per fare i confronti, per vedere che cosa accadeva nelle altre città e anzi a volte abbiamo anche sperimentato dove funziona e da dove è veramente raffinata, sicuramente per quanto riguarda i nostri dati, perché ci siamo trovati in mezzo a una polemica sulle spese telefoniche e hanno dovuto scontrare che quello che su Milano ci era classificato come spese telefoniche per noi era una voce che ricomprendeva al suo interno anche altre voci, dalla sicurezza che erano ascensori ad altro e quindi era una voce più complessiva rispetto al comune di Milano che diceva, vieni a disponibilità, adesso mi era avvicinata e volevo dire, fissiamo un incontro insieme, vi lascio i nostri contatti sia mio che del dipartimento anche perché appunto stiamo andando, uno dei primi impegni che ha preso il sindaco e su cui ci devo dire mi ha terminato giorno dopo giorno è stato quello di cambiare la loro forma di Roma Capitale e spesso si dice, ah quando qualcuno non ha niente di niente cambia il sito, ecco la nostra idea non è cambiare il sito, quindi cambiare il sito sarebbe stata una cosa molto facile, un po' di design in più, era facile diciamo essere più responsive nel sito che abbiamo adesso, ma quello che stiamo tentando di fare è quello cambiare l'impostazione della piattaforma, che è una piattaforma molto vecchia, di circa 10 anni fa, quindi ben venga la possibilità di collaborare, di scambiare i dati, anche di aiutarci a capire su quali dati si può puntare e come in collaborazione con i dirigenti dell'amministrazione fare in modo che questi dati siano sempre più disponibili sempre per registrarlo al rispetto della privacy che fa in peligro di un po' di noi e quindi a questo punto di vista c'è piena disponibilità, ma proprio perché i volumi per il bilancio ci sono alti così il consigliere Troncia deve andare a scoporare un pezzo di bilancio e io devo fare la presenza quello poi deciderebbe voi, io devo andare a essere là presente come membro della giunta quindi ci dovrete oggi, in questo momento una fianco all'altro, tra un po' ci saranno parte contrapposta e però insomma adesso dobbiamo andare su perché 10 giorni fa è da noi